Benvenuti cari follower, in questo nuovo video, in cui vi informeremo sulle zone interessate da pioggia e forti temporali domani, mercoledì 11 settembre 2024. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di sostenere e incoraggiare, noi premendo il pulsante. Mi piace per questo video per motivarci a continuare e fornirti il meglio. Quindi, come vedete sulla mappa davanti a voi, nella tardanotte di domani, mercoledì, entreranno nel nord Italia dei temporali molto forti, provenienti dalla Germania, e saranno accompagnati da aria fredda con piogge molto forti. I temporali aumenteranno d'intensità verso la fine della notte, soprattutto a mezzanotte, e saranno accompagnati da mal tempo, quindi domani sera, mercoledì, piogge e temporali su tutto, Milano-Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli-Venezia, Giulia-Veneto. La pioggia sarà forte, accompagnata da venti e da un notevole abbassamento delle temperature, con caduta di grossi chicchi di grandine e di varie dimensioni. Pertanto è vivamente richiesta prudenza, ed eventuali altre novità importanti cercheremo di comunicarvi in seguito.